Il problema del mezzogiorno italiano è eterno, lungo, dannoso e annoso. L'unica risposta per risolverlo l'abbiamo trovata qui, a Tromso, a mezzanotte, col sole dietro, con 10 gradi. L'unica risposta al mezzogiorno italiano e al problema del mezzogiorno italiano è la mezzanotte mervegese, questa. E con questo la mezzanotte mervegese vi ricorda che l'unico romanzo che può comprendere tutto questo e spiegarvelo è L'amore prima di far l'amore, un romanzo che vi illuminerà a mezzanotte come questo sole illumina Tromso e la Norvegia e vi rabbuierà a mezzogiorno come basta.